bello a tutti asfaltoni benvenuti su leontube sua nuova vita switch in questo andiamo a fare questa gara qua esattamente con tre stelle andiamo a cercare di battere il tempo di 2 e 20 con la senna gtr questa è una gara un po ostica va fatto con la senna no scusate non gtr ma gt andiamo a farlo a cercare di farlo vista lunga e complicata perché abbiamo e auto della polizia che ci danno la caccia quindi andiamo a vedere come provare a farla al meglio se vi può essere d'aiuto ci proviamo pronti a partire eccoci i parte lanciati eccoci eccoci Ok. A volte di più. Ok. Ora quindi occhio alla parte finale. Prendiamo bene. Passiamo di 7 secondi. Ripartiamo a 28. Vediamo un po'. Allora 2,21 fatto. 2,20 fatto. Ecco qua. Anche 2,20 lo abbiamo fatto. Avete visto? Se il video vi è piaciuto mi raccomando. Un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento. E come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Non di più. Per non perdere i nostri amici. Ciao a tutti.